Che la Sangritana sia un'eccellenza tra le aziende ferroviarie italiane è un fatto noto. Occupa da anni un posto di rilievo nel panorama dei trasporti, ha acquisito i certificati di sicurezza, i treni Sangritana svolgono infatti servizi anche sulla rete adriatica e i timori, le perplessità di quanti pensavano un suo forte ridimensionamento dopo la nascita di tua azienda unica regionale sembrano fugati. Si è preso comunque atto di un nuovo percorso, tanto per stare in tema. Il processo di cambiamento che investe il settore ferroviario con le nuove norme sulla sicurezza decise dopo il disastro accaduto in Puglia la scorsa estate includono naturalmente pure la Sangritana. Di questo e di altro abbiamo parlato con il direttore generale di TUA, Giuseppe Alfonso Cassino, che ha spiegato innovazioni adeguamenti, attività e obiettivi, non senza sottolineare l'impegno per tutelare e garantire le esigenze dell'utenza. Intanto la Sangritana bisogna dire che ha acquisito a Niorsono il certificato di sicurezza e quindi opera come impresa ferroviaria. Questo significa, in parole povere, che i treni della Sangritana oggi svolgono servizi anche sulla rete ferroviaria italiana, quindi sulla direttrice adriatica e su altre linee interconnesse all'Adriatica. Questo è un grande vantaggio che ha la Sangritana rispetto ad altre imprese regionali in quanto ci permette di partire da uno stadio molto più avanzato rispetto alle certificazioni necessarie. Nel contempo, come diceva lei, a seguito dell'incidente in Puglia del luglio scorso, c'è stata un'accelerazione rispetto all'applicazione di un decreto già concepito nel 2015, il decreto 112 che ha trovato immediata attuazione ai primi di agosto. Questo significa che le ferrovie regionali interconnesse, quindi quelle che hanno collegamenti con la rete ferroviaria italiana, transitano dal regime di sicurezza del Ministero dei Trasporti, Ustif, sotto l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in un mondo in cui le regole sono un po' diverse, un po' più rigorose rispetto alla sicurezza, soprattutto verso chi non ha adeguato nel frattempo i propri impianti ai sistemi tecnologici più moderni. Noi siamo in questa situazione, abbiamo una linea che non ha ancora le tecnologie di sicurezza e quindi di conseguenza ha dovuto dare attuazione immediata a delle misure di sicurezza che hanno comportato effetti sull'offerta. Quindi allungamenti di percorrenza dovuti ad una riduzione di velocità e un distanziamento treni di 60 minuti che prima non era contemplato. Non ci accontentiamo ovviamente di prendere atto di queste misure che hanno avuto qualche effetto sull'offerta, con giuste rimostranze da parte della clientela e stiamo lavorando con l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza per poter ovviare con misure cosiddette mitigative alternative e quindi a parità di sicurezza poter recuperare la regolarità che avevamo prima in termini di maggiore velocità dei treni e anche di un maggior numero di treni in circolazione. Proprio questa mattina abbiamo avuto una riunione operativa con i tecnici di Lanciano per programmare le attività e il 23 novembre avremo un incontro a Roma con l'Agenzia Nazionale per discutere le nostre controproposte e poterle verosimilmente attuare prima possibile. Noi speriamo con l'orario invernale che va in vigore nella prima decada di dicembre. Ai cambiamenti si sta, si oppone quasi sempre una certa resistenza e la fatica a lasciare andare abitudini consolidate e rassicuranti. Quindi non sono mancate rimostranze e proteste quando alcuni giorni fa i pendolari della linea Lanciano-Sanvito hanno dovuto fare i conti con una sensibile riduzione della velocità, con cambi d'orario e con ritardi. Ci sono state rimostranze perché abbiamo dovuto cambiare le regole del gioco. Quindi la circolazione che prima avveniva con le regole dell'Ustif l'abbiamo dovuta adeguare alle nuove regole dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza. Sono regole, come dicevo, più restrittive perché sono considerate regole normalmente applicabili in situazioni eccezionali quando la tecnologia è assente per la varia momentanea. Da noi la tecnologia è in fase di realizzazione e quindi siamo tenuti ad applicare queste regole più restrittive ma con la possibilità di proporre delle misure alternative. Comprendiamo la difficoltà dell'utenza che ha dovuto anticipare la partenza da Lanciano e ritardare l'arrivo a Lanciano. Nel rientro abbiamo dovuto sostituire dei treni con degli autoservizi sostitutivi ma, come le dicevo prima, stiamo lavorando per recuperare gli standard che avevamo prima senza abbattere i livelli di sicurezza che oggi si informano a criteri diversi e molto più rigorosi. La questione di sicurezza la stiamo affrontando come elemento contingente che si è manifestato come dicevo a seguito dell'applicazione del decreto 112 ma stavamo già lavorando sulla parte ferroviaria su indicazione del consigliere delegato ai trasporti e con dei tavoli in regione coordinati dalla direttrice Picardi e ai tavoli ai quali partecipiamo noi di TUA come Ferrovia Adriatico Sangritana e nonché Trenitalia con due obiettivi molto importanti. Il primo obiettivo è quello di proporre un'offerta ferroviaria unica, concepita in maniera unitaria con servizi cadenzati su tutte le linee a prescindere da chi effettua il treno quindi a prescindere da Trenitalia o Ferrovia Adriatico Sangritana l'offerta è un'offerta concepita in maniera di sistema e unica quindi non ci sono due offerte distinte ma un'offerta unica costruita insieme a Trenitalia. Il secondo obiettivo che ci siamo dati su quale stiamo lavorando è di avere un titolo di viaggio unico a livello regionale che consente di partire da una qualsiasi stazione anche della Sangritana e verso una quasi altra stazione con un titolo unico regionale ferroviario e quindi con un sistema di tariffazione che non veda più la necessità di acquistare due biglietti per fare una tratta ferroviaria in quanto gestita da due differenti imprese ferroviarie. Quindi questo è l'altro obiettivo molto più ambizioso ma su quale ci stiamo lavorando.